E' chiusa da due anni per motivi di sicurezza la chiesa di Nostra Signora del Carmelo in località Madonna del Carmine a Lanciano e la situazione si è ulteriormente aggravata con l'aumento delle lesioni ed il crollo della parete della lunetta dell'abside. Si tratta di una chiesa molto cara ai residenti. Tra queste mura siamo cresciuti, noi e i nostri genitori ci hanno detto con le lacrime agli occhi continuando a chiedere che si faccia qualcosa per restituirla ai fedeli. La situazione, considerando la frana in atto nella contrada, è comunque difficile. Monsignor Emidio Cipollone, dunque un problema che era già presente, no? Sì, la Madonna del Carmine purtroppo non ci ha colto di sorpresa. Avevamo appena finito dei lavori sul campanile, sembrava tutto tranquillo e invece l'inizio di una frana che interessa tutta la collina, tutta la frazione di Madonna del Carmine ha messo in crisi anche la stabilità della chiesa, per cui all'inizio del mese di dicembre del 2022 ho dovuto scrivere un decreto per chiudere al culto la chiesa proprio per la sicurezza delle persone. Ovviamente non siamo rimasti con le mano in mano, abbiamo messo dei fessurimetri, abbiamo fatto intervenire i tecnici, svariati tecnici, perché potessero monitorare e verificare quello che stava succedendo e mentre inizialmente sembrava che la frana fosse molto lenta, quasi addirittura ferma, la siccità di due anni fa e quella di quest'anno invece ha fatto ripartire con più velocità e con più problematicità la frana stessa, per cui nel progetto di intervento che avevamo i tecnici ci hanno detto che si sarebbe speso mezzo milione di euro e al massimo i lavori sarebbero durati fra i tre e i cinque anni, perché la frana continuando avrebbe fatto crollare ugualmente tutto. Abbiamo interessato il Comune, anche il Comune ha cominciato a fare i suoi interventi, i suoi rilievi e insieme speriamo per il futuro di poter trovare una strada per la soluzione di questo problema, una strada che ovviamente supera le capacità della diocesi di Lanciano-Ortona e supera anche le capacità del Comune di Lanciano. Sicuramente ci vorrà un intervento superiore, minimo della Regione, poi probabilmente anche dello Stato. Speriamo di riuscire a trovare la strada giusta perché questo intervento ci sia.